Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video Oggi voglio fare un video un po' diverso dal solito Non è un vlog, non è un Q&A Voglio fare un video in cui vi dico i miei consigli per mangiare con consapevolezza Cosa significa? Spesso vedo o sento di persone che dicono Io oggi non ho mangiato niente, ho mangiato tanto un pochino di riso a pranzo e una bistecchina a cena E poi sono magari in sovrappeso, poi magari comunque hanno dell'eccesso di grasso e tutto Quindi lì ti chiedi, ma com'è possibile che tu mangi solo questo? E sai così, cioè dovresti essere anche persino deperito se hai mangiato davvero tanto quanto dici E poi in realtà quando poi vai a scoprire davvero che cosa mangiano, ma che il loro cervello non registra di aver mangiato Scopri il motivo della loro situazione E anche spesso mi chiedete, ma io mangio bene, mangio sano, mi alleno, eppure sono sovrappeso, eppure in grasso Bene, allora penso che questi consigli possano essere utili al fine di capire, scoprire quella cosa che fate Ma che non vi accorgete di fare, o che non pensate fosse quella cosa che limitava i vostri successi Iniziamo, allora Primo consiglio è mangiare da seduti Ovviamente non mi riferisco a chi è di corsa, chi deve andare da una parte all'altra Chi deve per forza mangiare camminando, in piedi, in metro, eccetera Mi riferisco a chi è a casa e magari vuol fare merenda Fate merenda da seduti È come se sedendoci noi inviamo al nostro cervello un segnale che dice Hey guarda, stiamo per mangiare Registralo, ti ho la mente, stiamo per mangiare Perché spesso quel boccone mangiato in piedi, magari davanti al fornello Non viene registrato, non ci accorgiamo di aver mangiato Ed è molto importante registrare di aver mangiato Un altro consiglio fondamentale è porsi davanti a sé tutto quello che si ha intenzione di mangiare Io questo lo faccio, ad esempio, facendomi patti unici O comunque io cucino per me stessa, quindi bene o male so Ma capisco che in situazioni in cui, ad esempio, se hai una grande famiglia Si fanno una ciotola di pasta e ognuno prende la sua porzione, la sua quantità, cucchiaio È un pochino più difficile Però, ad esempio, io vedo che mio papà vede e considera di aver mangiato solo quello che ha nel piatto Quindi se tu gli metti un petto di pollo nel piatto, lui dice Io a pranzo ho mangiato un petto di pollo Ma non va a considerare tutto quello che sta fuori dal piatto Cioè i grissini, il formaggio, lo stuzzichino, le olive e tutto E infatti finisce il pranzo e dice Io ho mangiato solo un petto di pollo No, non proprio, sinceramente Quindi è molto importante avere consapevolezza e vedere, mettersi davanti, quello che si ha intenzione di mangiare Perché spesso, quando poi si guarda davvero nell'insieme quello che si ha mangiato E quello che si ha intenzione di mangiare Sembra persino tanto Però poi in realtà lo andiamo a mangiare e non ce ne accorgiamo se non l'abbiamo prima guardato E infatti io penso che se io ponesse davanti a una persona tutto quello che davvero mangia in un pasto Quella persona mi direbbe No, 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 ma questa roba è troppa roba Però poi stuzzicando a destra e a sinistra mangia lo stesso Però non se ne accorge Non so se mi sono spiegata Un altro consiglio è mangiare piano Mangiare piano, cioè un pasto dovrebbe essere consumato in almeno 5 minuti, 7 minuti Io sinceramente mangio anche un quarto d'ora Proprio me la prendo con calma, me la godo, me la gusto Quando ho la pasta io mangio ogni pezzettino di pasta uno alla volta Può sembrare strano però a me dà proprio la sensazione che mi sto riempiendo E dovete sapere che il nostro corpo impiega 20 minuti a realizzare che è sazio Quindi se noi mangiamo in 5 minuti abbiamo ancora una finestra di un quarto d'ora Per il nostro corpo per non sentire sazietà Più o meno adesso Quindi magari finito un piatto di pasta mangiato in 3 minuti Non sentiamo la stessa sazietà che proveremmo se lo mangiassimo in 10 Quindi il mio consiglio è mangiare piano E se davvero non ci riuscite aiutatevi con un timer Io questo l'ho fatto con mia mamma E le dicevo mamma questo piatto lo devi finire entro le ore tot E magari all'inizio lei mangiava tutto Poi si accorgeva che mancavano ancora 3 minuti E lasciava un pezzo di pasta E lo guardava per i prossimi 3 minuti Però poi si è un po' abituata a questo E si è un po' educata E mi ha detto, mi ha confermato che ha davvero fatto un po' la differenza Quarto consiglio è avere sempre un'idea di quello che si vuole mangiare Avere sempre il frigo fornito Se si arriva al pasto e si apre il frigo e non si trova niente È molto più facile raggiungere qualcosa di già pronto Qualcosa di imbustato, qualcosa di impacchettato Quindi di processato Quindi il mio consiglio è avere sempre bene o male Qualche opzione, qualche cibo facile da prendere pronto Potete fare i meal prep Quindi prepararvi in anticipo ad esempio Le porzioni di riso, di pasta fredda Verdure già cotte Così che voi arrivate, prendete, riscaldate, cucinate Ma insomma in 5 minuti è pronto Il quinto consiglio è non arrivare mai ai pasti affamati Questo l'avete sentito sempre Come il consiglio di non fare mai la spesa quando si affame Perché se no si compra tantissima roba inutile Comunque anche questo vale per i pasti Se arrivi a un pasto che sei affamato Ti mangi il mondo e quell'altro Mentre se hai già mangiato prima, hai fatto merenda Hai una fame ma non esagerata Io punto sempre a soddisfarmi invece che a riempirmi Per me il momento del pasto è la soddisfazione del mio palato E il fatto che sto nutriendo il mio corpo Piuttosto che devo riempirmi perché devo mangiare In quanto appunto arrivo al pasto con una leggera fame Ma mai che sento che mangerai un bovino e oltre A volte succede perché comunque magari mi muovo di più Oppure mi sono dimenticata la merenda Oppure ho avuto un contrattempo Però cerco di limitarlo al minimo Anche perché così, l'ho detto spesso Mangiando più volte durante il giorno Riesco a variare tantissimi gusti Le merende le faccio un pochino più dolci I pasti principali sono salati E questo mi aiuta a mantenere un equilibrio Anche mentale nella mia dieta Sesto consiglio è stare attenti ai succhi I succhi sono spesso addizionati con zuccheri E anche quelli che non lo sono Che sono solo frutta State attenti alle dosi Perché un succhino a volte ha circa 250-300 ml Che possono corrispondere persino a 35 grammi di carboidrati Va benissimo perché sono zuccheri della frutta e tutto Poi dipende dai vostri macronutrienti, dai vostri quantità Quindi non mi metto a discutere su questo Ma il fatto sta che bere un succo E mangiare uno o due frutti A parità di carboidrati È molto meno soddisfacente Ma soprattutto ha un potere molto meno riempitivo Comunque a livello di sensazione Ti senti molto meno pieno Dopo aver bevuto un succo Rispetto ad aver mangiato la frutta A parità di carboidrati Quindi il mio consiglio è piuttosto mangiare frutta fresca Che riempie molto di più Che sazia molto di più Rispetto a bere quei succhi Che seppur buoni, deliziosi, naturali e tutto A livello di sazietà riempiono molto meno Un altro consiglio che mi sento di dare È quello di cercare di limitare gli spiluccamenti Che cosa significa? Che quando decidete di prendere una manciata di mandorle per merenda O del burro di mandorle Uso questo esempio perché è magari quello che è successo a me Che se prendo la mia porzione, quello che desidero E poi lascio lì il barattolo Quando ho finito di mangiare Poi magari lo guardo e dico Un altro, un altro due nocine Un altro cucchiaino di burro di mandorle E questo a lungo andare può essere un altro fattore Quindi il mio consiglio è Quando avete deciso di prendervi la vostra dose Di qualunque cosa Prendete il pacco e chiudetelo Mettetelo via Poi se ancora avete fame Ritornate a prendere il pacco Ma è cercare di evitare quel Allungarsi su qualcosa senza pensare Essendo sovrappensiero Questa è un po' la teoria del mindful eating Cioè mangiare con la testa Evitando il sovrappensiero Un altro consiglio che mi sento di darvi E uno di cui io sono anche colpevole Cioè io mangio guardando la tv Guardando youtube Guardando le puntate in streaming del segreto Quindi facendo altro Non concentrandomi solo sul mio pasto Ammetto che mangiare da soli È già abbastanza triste E in più Se poi devo farlo pure in silenzio Non è il massimo Quindi magari nel momento in cui Sono con i miei, sono con un'amica C'è può essere una conversazione La tv è spenta Però Nei momenti in cui sono da sola È per questo che l'accendo Però spesso Il fatto di mangiare Guardando qualcosa Distraendosi È anche quello Un fattore di Mangiare sovrappensiero A me non succede perché Mi preparo quello E quello ho davanti E quello devo mangiare L'unica cosa su cui potrebbe influire È la velocità in cui lo mangio Però di per sé Mi fermo lì E quindi si ritorna al discorso Che so che è più complicato Per chi magari vive in una famiglia Più numerosa Che le cose da mangiare Sono un po' sparse per il tavolo E non è sempre tutto lì Ultimo consiglio che mi sento di dare È bere Bere acqua Bere tanto O comunque quello che richiede il vostro corpo Perché spesso Io mi sono accorta Che avevo fame Ma in realtà avevo sete Perché il nostro corpo ci richiede acqua Quindi Quello che faccio io È che comunque Avendo una specie di cadenza Nei pasti Quindi mangiando ogni 2-3 ore Se sento fame Un'ora dopo la colazione Mi accorgo che è un po' strano E quindi bevo E alla fine scopro che avevo sete Quindi anche se voi non avete questa cadenza Nei pasti e nelle merende Chiedetevelo Da quanto non ho mangiato? Non ho mangiato da 10 minuti Strano che io abbia fame Quindi provo a bere Se dopo che hai bevuto Hai ancora fame Magna Capito? Però Spesso la fame viene confusa con la sete Basta Questi sono i miei consigli Con delle piccole accortezze Per riuscire a mangiare con consapevolezza Che possono giocare un ruolo chiave Nel poter dimagrire Pur continuando a mangiare Perché sono delle piccole cavolate Che potrebbero fare la differenza Il video finisce qui Spero che vi sia stato utile Se lo è stato mi fa molto piacere Ci vediamo al prossimo video Ciao